Il 30 novembre e il primo dicembre si svolgerà la quattordicesima edizione della Conferenza Nazionale di Statistica. È un'occasione di incontro tra esperti, tra istituzioni, tra giovani, tra produttori e utilizzatori di dati statistici. È un'iniziativa estremamente importante che viene realizzata normalmente a cadenza biennale. Il titolo di questa conferenza è un moderno ecosistema di dati per una ripartenza inclusiva e sostenibile. Le tematiche sono varie, ci sono cinque filoni estremamente importanti, la transizione digitale, obiettivo Sista, sistema statistico nazionale, ambiente sostenibile, misure dell'economia, prospettive della società. I lavori saranno prevalentemente virtuali, anche se l'apertura e la chiusura saranno in presenza, verranno realizzati format di vario genere e oltre alle sessioni plenarie e parallele si svilupperà un programma a margine proponendo conversazioni, approfondimenti, mostre virtuali e altre iniziative. L'invito è a partecipare a questa grande opportunità che serve a conoscere ed apprezzare il contributo della statistica per la conoscenza e lo sviluppo del Paese.